Nell'ome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore, che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Ci troviamo nell'oratorio di San Giuseppe, alle Budrie, dove è custodita l'urna con le spoglie di Santa Clelia Barbieri, nata il 13 febbraio del 1847 e morta il 13 luglio del 1870, all'età di 23 anni. Quindi siamo nel centocinquantesimo della morte. Questa ragazza è sempre vissuta in questa piccola frazione di San Giovanni in Persiceto. Ha speso tutta la breve vita facendo del bene, nella semplicità dei servizi necessari alla vita della povera gente, e trasmettendo la bontà, l'onestà e la laboriosità che vengono dalla fede incarnata nel quotidiano. Apparteneva agli operai della dottrina cristiana, i catechisti, nell'Ottocento, e a soli 21 anni viede inizio ad una forma di vita comune di ragazze. Era il primo maggio 1868, 152 anni fa. La comunità è via via cresciuta e le ragazze sono diventate le suore minime della dolorata, che sono presenti ovviamente oltre che qui alle Budrie, dove hanno la loro casa madre, in altre parrocchie della diocesi di Bologna e in altre diocesi d'Italia, in Africa, in India e in Brasile. Santa Clelia ci accompagna anche in questo tempo di pandemia e ci aiuta a dare senso a quelle parole che sono diventate un po' come un manifesto da interpellare in questi mesi difficilissimi. Tutto andrà bene. Santa Clelia ha un unico scritto, la sua letterina, che sintetizza la sua esperienza mistica. e nella seconda parte scrive, dando voce a Gesù stesso, che le parla. Ah, cara la mia buona figlia, tu non puoi credere quanto sia grande l'amore che ti porto. Il bene è straordinario che ti voglio. La speranza che ho di vederti santa è straordinaria. Dunque coraggio nei combattimenti. Sì, fatti pure coraggio, che tutto andrà bene. E quando tu hai delle cose che ti disturbano, fatti coraggio a confidarmelo. Papa Francesco, nella veglia pasquale, ha commentato queste parole manifesto con altre parole veramente ispirate. Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma con l'andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita. Santa Clelia ci accompagna dentro alla fede pasquale, che è sottesa a quelle parole. E Maria Santissima segue da vicino il suo figlio nella vita risorta, perché è rimasta con lui sotto la croce. La Madre Santa ci può aiutare più di chiunque altro ad entrare in comunione con la vita del suo figlio, nei momenti della gioia, del dolore, nella speranza della gloria e nella luce della fede. O grande dolce Dio, voi ben vedete la mia volontà che quella di amarvi e di cercare sempre, di star lontano della vostra offesa. ma la miseria mia è tanto grande che sempre vi offendo. aprite il vostro cuore e buttate fuori una quantità di fiamme d'amore 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 preghiamo esaudisci dio nostra salvezza la preghiera di questo tuo popolo e per l'intercessione della beata sempre vergine Maria e di tutti i santi liberaci da ogni male secondo il tuo giudizio e rendici sicuri della tua misericordia per Cristo nostro Signore amm primo mistero gaudioso l'annuncio dell'angelo a Maria l'angelo disse a Maria non temere perché hai trovato grazia presso Dio con te non abbiamo paura Vergine Madre di Dio rendici coraggiosi del tuo coraggio nel fare la volontà del Padre con piena fiducia in colui che ci fa trovare grazia Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Abre Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero gaudioso. La nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori, non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per voi un Salvatore. Non siamo soli e privi di salvezza, colui che si prende cura del suo popolo abita in mezzo a noi. Tu, Maria, lo hai generato per noi e ce lo offri ancora. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro Padre quotidiano, che ripete a noi i nostri debiti, come noi ripetiamo ai nostri debitori, e non ci dovrà in tentazione, ma in rilassita la madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, e specialmente le vie sognose, della tua misericordia. Quarto mistero gaudioso, la presentazione al Tempio di Gesù. La profetessa Anna, sopraggiunta in quel momento, parlava del bambino a quanto si aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Hai condiviso il tuo figlio, con quanti attentevano la gioia, o Maria. Renditi forti, per testimoniare la nostra speranza, anche nel tempo presente. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Grazie oggi, nostro Padre, che viviamo, e viviamo i nostri detti. Come noi viviamo i nostri detti, come noi viviamo i nostri detti, come noi viviamo i nostri detti. E non ci si può rendere la sua, ma viviamo la sua, ma viviamo la sua, ma viviamo la sua. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per te e per te. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è l'ora della nostra morte, amore. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora e sempre. Nese coli, dese coli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal foco dell'Inferno. Porta in cielo tutte le anime, e specialmente le libri sognose, nella tua nostra ricorda. Nel quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù rispose a Maria e Giuseppe, «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compressero ciò che aveva detto loro. Madre di Gesù, Angella del Signore, tu che hai imparato a fare la volontà del Padre, svela i misteri della sua sapienza anche a noi, per non rimanere confusi nella presente condizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra». Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimediamo i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non cittura in tentazione, ma è la città di madre. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Amén. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Amén. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amén. Maria. Secondo l'intenzione del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, bene a noi i nostri debiti, come noi diventiamo ai nostri debitori, e non cinturre in tentazione, ma di grazie al mare. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per tutti i nostri defundi, l'eterno riposo, dona loro, o Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, ripossino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, o Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, ripossino in pace. Amen. Signore, pietà, Cristo, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Cristo, ascoltaci, Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici, Padre che sei nei cieli, figlio, Redentore del mondo, Spirito Santo, Paraclito, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre Ammirabile, Madre del Salvatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Credente, Vergine Fedele, Specchio di Perfessione, Sede della Sapienza, Fonte della Nostra Gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora Consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Reggina degli Apostoli, Reggina dei Martiri, Reggina dei Testimoni della Fede, Reggina delle Vergini, Reggina di tutti i Santi, Reggina concepita senza peccato, Reggina assunta in Cielo, Reggina del Santo Rosario, Reggina della Famiglia, Reggina della Pace, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, prega per noi, Santa Madre di Dio, che siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Preghiamo. O Dio, il Tuo unico Figlio ha preso su di Sè la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, rivelando il valore misterioso della sofferenza. Benedici coloro che sono tribolati, perché, uniti a Cristo per la preghiera unanime della Chiesa, godano della consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén. Insieme al Suo Divino Figlio ci protegga la Vergine Madre. Amén. Alleluia. Alleluia. Quienque meruissi portare. Alleluia. Resurrezzi, sicundizzi. Alleluia. Ora prorobis Teo. Alleluia. Alleluia. Amén. Grazie a tutti.